Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi video unboxing molto speciale perché uno di voi mi ha mandato questo pacco totalmente a sorpresa e voglio aprirlo con voi, non me l'aspettavo assolutamente e adesso vi spiegherò meglio Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling tutto il mese di febbraio è attiva una promozione pazzesca Acquistando un minimo di 3 magliette verranno a costare 10€ ogni singola maglietta, quindi 3 maglie per 30€ e ogni maglia successiva avrà sempre il costo di 10€ Quindi per il mese di febbraio non barrà il codice sconto 7 Potter perché viene già applicata in automatico questa fetta ma a partire dal 1 di marzo sarà nuovamente attivo il mio codice sconto 7 Potter Detto questo direi di cominciare ragazzi e adesso andiamo ad aprire questo pacco gigante che tengo in casa da circa 10 giorni e devo scusarmi con Eliseo perché me l'ha inviato lui per i tempi biblici dei miei video Purtroppo sono molto molto impegnato ultimamente ma appena ho trovato 10 minuti ecco che mi sono seduto per registrare questo video Sono super curioso e adesso lo diremo assieme Eliseo è un ragazzo col quale ho fatto scambio con delle figurine di Harry Potter Vi ricorderete in un video precedente quando ho aperto i pacchetti con gli scambi che avevo effettuato con due di voi Ebbene lui avendo ormai il mio indirizzo mi ha inviato totalmente a sorpresa questo regalo Io sono super super contento, l'ho ringraziato tantissimo Non doveva disturbarsi in nessun modo ma mi è arrivato quindi adesso lo apriremo assieme E non vedo davvero l'ora Quindi andiamo ad aprirlo, andiamo a strappare finalmente questa carta E vediamo cosa c'è all'interno di questo pacchetto Ok ci siamo riusciti, Eliseo è impazzato davvero molto molto bene E vediamo, wow ma è una brigata pazzesca ragazzi Ho capito, ho capito cos'è e sono super super contento Perché dietro questo cuscino c'è una storia che neanche Eliseo conosce E che adesso vi andrò a raccontare Davvero molto molto bello E ragazzi sono super contento, davvero grazie mille Eliseo Mi hai fatto un grandissimo regalo Perché ti faccio sapere che io volevo acquistare questo cuscino in uno dei miei viaggi Se non sbaglio mi trovavo a Berlino Ma non avevo posto per metterlo all'interno del mio bagaglio a mano Perché ero partito solo col bagaglio a mano e quindi non avevo posto dove metterlo E a malincuore ho dovuto rinunciare ad acquistarlo E adesso tu senza neanche saperlo me l'hai inviato Quindi davvero il destino ha voluto così e sono super super contento È davvero bellissimo e credo che entrerà a far parte del mio sfondo nei prossimi video Ragazzi ma quanto è bello questo Harry Potter cuscino Davvero molto molto bello Ti ringrazio tantissimo Eliseo e spero di poter ricambiare in qualche modo Davvero grazie, grazie mille Ma non è finita qui ragazzi perché abbiamo anche un altro pacco da aprire assieme In realtà questo l'ho già aperto perché era un acquisto molto molto importante Che ho fatto su ebay un paio di settimane fa Ero a letto di domenica, ero abbastanza svogliato E mi sono messo lì un po' a giocare su ebay a cercare roba potteriana E mi sono imbattuto in un annuncio davvero secondo me molto molto conveniente Infatti avevo molti dubbi al riguardo Ho trovato una prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale Prima ristampa Quindi non parliamo della prima edizione quella con la copertina errata con Harry senza occhiali Perché quella è la prima edizione in assoluto di Harry Potter E si trova a circa 1000 euro, 1200 euro Diciamo che il suo valore è quello lì Ma è la prima edizione prima ristampa Quindi è quella che viene subito dopo quella con l'errore Diciamo che è la prima volta che viene stampata questa copertina con Harry con gli occhiali Quindi ragazzi è una copertina comunque un'edizione che ha un valore abbastanza alto Di solito si aggira attorno ai 250-300 euro Io ho trovato questo venditore che l'ha messa a circa 60 euro completo di spedizione E l'ho acquistata immediatamente Ho pagato con Paypal Quindi nel caso fosse stata una truffa sarei stato comunque coperto dall'assicurazione di Paypal E ragazzi è arrivato È arrivato, l'ho aperto ed è in ottime condizioni Sono davvero stupito da quello che mi è arrivato L'unica pecca diciamo che secondo me è anche quello che ha influito sul prezzo È che sulla prima pagina del libro Quindi una volta aperta la copertina Nella prima pagina interna che dovrebbe essere bianca C'è una dedica scritta con un pennarello verde Perché evidentemente era un regalo per una nipotina o qualcosa del genere Ed è stata fatta una dedica in prima pagina Ma tolto questo ragazzi il libro è in condizioni perfette E sono super super contento Mi è stato inviato con piego di libri Quindi si è corso anche un bel rischio Ma è arrivato, era anche ben protetto da questa scatolina in cartone fatta a mano E ragazzi eccolo qui E già a primo occhio si nota la differenza con l'edizione che io possiedo Che adesso vi faccio vedere un po' più nel dettaglio Ecco qui intanto il retro delle due edizioni Questa è la mia mentre questa è quella che ho acquistato Il retro è esattamente lo stesso, cambia solo il prezzo Questa qui che è quella presa su ebay costava 25.000 lire Mentre questa qui costava 28.000 lire Ma tolto questo è praticamente uguale Quello che cambia già si nota dalla costa E dalla copertina soprattutto La copertina ecco qui Ve la faccio vedere un pochino meglio Questa qui ha il carattere classico di una sorta di Ariel Non saprei come dirlo Harry Potter è scritto in caratteri classici Mentre in questa edizione qui che è la mia Harry Potter è già scritto come nella saga cinematografica Quindi è stata già evoluta anche la grafica del titolo Troviamo J.K. Rowling scritto molto grande in cima Qui lo troviamo scritto davvero molto piccolo Tra Harry e Potter E poi troviamo anche il sottotitolo E la pietra filosofale qui in un angolino Mentre qui è scritto per esteso Anche l'immagine in generale Questa qui nuova è leggermente più ingrandita rispetto a questa qui E poi il logo Salani Editore Qui è in bianco Mentre qui è tutto in nero E altra cosa che la differenzia molto da questa edizione che è la mia Che è esattamente Vi dico anche quale edizione Io l'ho comprata nel 2001 E si tratta della 22esima ristampa Quindi già era stato ristampato 22 volte Harry Potter Quando lo acquista io E non l'ho acquistato neanche così tardi nel 2001 Oggi non ho neanche idea di quale sia l'edizione Di quante volte questa sia stata ristampata E ragazzi invece questa qui è la prima stampa È la prima edizione prima ristampa Che adesso vi mostrerò meglio nella videocamera Ma è scritto qui su questa pagina Prima edizione maggio 1998 Prima ristampa ottobre 1999 Tenete conto che la prima edizione è stata divulgata in 20.000 copie La tiratura era di 20.000 copie Mentre di questa qui non so esattamente quale sia il numero Ma sicuramente sarà superiore alle 20.000 Infatti costa meno rispetto a quell'edizione Ovviamente E altra cosa molto molto interessante È che la mia aveva già il numero Qui abbiamo il monogramma HP E poi abbiamo anche il numero 1 Primo anno Infatti tutti i volumi sono numerati per anno E poi abbiamo Harry Potter e la pietra filosofale in verde Mentre qui ecco che abbiamo semplicemente sulla costa J.K. Rowling E il titolo Harry Potter e la pietra filosofale Non troviamo HP con i caratteri cinematografici Non troviamo la dicitura primo anno Quindi è assolutamente differente Cambia davvero tanto Sono piccoli dettagli Ma sono tanti piccoli dettagli Che rendono molto differenti E molto più preziosa questa copia qui Poi come vi dicevo all'interno è presente una dedica Eccola qui E c'è scritto Natale 1999 Alla mia carissima Ada Un libro per scatenare la tua già fervida fantasia e allegria Auguri con tanto affetto Quindi è anche molto toccante il fatto che ci sia una dedica all'interno A me non disturba più di tanto Perché il libro è davvero in ottime condizioni E anche nei miei libri ci sono alcune dediche Quindi questo non mi disturba più di tanto Come vi dicevo E altra differenza è la copertina interna Che in questo caso è completamente rossa Ecco qui E poi abbiamo la dicitura in oro Sulla costa J.K. Rowling Harry Potter e la pietra filosofale Mentre in quella che possiedo già In quella che possedevo già Ecco che invece abbiamo la copertina interna Tutta in blu con questa fantasia geometrica E va a riprendere quella esterna Con primo anno il titolo è HP scritto in cima Io ragazzi sono davvero molto molto contento Di aver avuto questa fortuna Di aver beccato questa edizione A un prezzo così abbordabile Anche perché vale davvero molto di più E quindi sono stato molto fortunato Il mio sogno è quello di reperire la primissima edizione Quella con la copertina senza gli occhiali Ma so che è praticamente impossibile Quella costa più di 1000€ E sinceramente non vorrei arrivare a spendere Cifre del genere per un libro Anche se ne capisco appieno il valore Ma sono già molto molto soddisfatto Di avere in casa questa edizione qui Che è quella subito dopo È la prima copertina che riporta Harry con gli occhiali Quindi sono comunque contento di questo Bene ragazzi fatemi sapere Se voi possedete la copertina con Harry Senza occhiali Dove l'avete presa Quanto vi è costata Se l'avete comprata quando uscì nel 1997 Voglio sapere proprio tutto E fatemi sapere cosa ne pensate di questo mio ultimo acquisto E in bocca al lupo e buona caccia Tutti quelli che vorranno provare Ad accaparrarsene una copia Io sono sempre a vostra disposizione Quindi per qualsiasi domanda Contattatemi su Instagram Antonio.seria E ragazzi naturalmente Sotto nei commenti scatenatevi Iscrivetevi al canale Quando non siete ancora iscritti Lasciate un mi piace Commentate E ragazzi Io a questo punto Chiudo il becco Ringrazio ancora tantissimo Eliseo Per questo super regalo Molto molto gradito Ma adesso ti ringrazierò Anche in privato E ragazzi A questo punto Vi do appuntamento prestissimo Con tante altre novità Ciao Ciao